Il mio cuore Il mio cuore Il mio cuore Il mio cuore Perché quel Signore m'ha detto che un giorno sarebbe tornato, tornato per me. Egli è il Signore, lo racconta alla gente, il Signore potente, potente bambino, è il sorriso, è la parola, è l'amore per sempre. È il sorriso, è la parola, è l'amore per sempre. Egli è il sorriso, è il sorriso, è il sorriso, è l'amore per sempre.